Draga Stankovic, una partita infinita, si è ancora in vita in questa serie, una partita davvero clamorosa dal punto di vista delle emozioni e dell'intensità. Sì, siamo ancora vivi dopo 2-0 sotto, dopo Final Four della Champions. Oggi abbiamo fatto non una bellissima partita, però alla fine abbiamo riuscito a vincere, che è importante in questo momento. Giochiamo ancora con troppi up and down, non riusciamo a giocare con la continuità che ci serve per questa serie. Siamo vivi ancora, andiamo adesso lì a far vedere che siamo ancora vivi, che stiamo tornando. E se riusciamo a dare il nostro massimo e se vinciamo anche lì, secondo me passiamo in finale. Dal punto di vista del carattere, stasera siete stati davvero super? Sì, nelle prime due partite abbiamo molato quasi sempre dopo un set perso. Oggi, anche nella partita per terzo posto, la Cracovia ci ha aiutato molto perché siamo stati uniti in un momento difficile. Che è stato anche oggi, siamo stati uniti con la testa su, non abbiamo molato mai e alla fine il risultato è arrivato. Adesso grande stanchezza ovviamente dal punto di vista psicologico, si deve recuperare gara 4 a Perugia, ora la pressione è anche su Perugia, no? Sì, noi oggi abbiamo tirato fuori il nostro massimo e secondo me ci serviva una partita così, una vittoria così, soffrendo. Perché, ripeto, non abbiamo giocato il nostro migliore, però siamo riusciti a vincere. Quella è una cosa in più che ci servirà questa squadra e aspetto ancora una partita tirata di là, però se riusciamo a giocare così come stasera possiamo portarla alla bella.